Coltivare cannabis in casa in minime quantità non è reato se destinato all'uso personale. Lo ha stabilito la Cassazione. Una vittoria per i malati come Walter De Benedetto che ha condotto una battaglia per ottenere una maggiore dose di cannabis contro il dolore. Da Arezzo Costanza Mangini. Finalmente l'Italia ha iniziato a essere consapevole, specialmente con i medici nuovi, le nuove leve. Fa fatica parlare Walter, ma ugualmente ci ha accolto a casa sua, ci ha incontrato per commentare la sentenza della Corte di Cassazione a sezioni riunite che ha stabilito che coltivare cannabis in casa per uso personale non è reato. La storia di Walter De Benedetto era salita alla ribalta della cronaca dopo il sequestro a casa sua da parte dei carabinieri di alcune piante di canapa. Non potevo aspettare, quindi ero pronto pure a qualsiasi cosa. Il dolore non aspetta, aveva detto Walter. Da un mese gli è stato raddoppiato il dosaggio di canapa terapeutica, ma la sua malattia avanza e le condizioni di Walter negli ultimi giorni sono peggiorate. Il dolore non gli dà pace neppure di notte, ma lui non molla. Il medico di famiglia è venuto anche oggi a visitarlo. Se uno potesse camminare, tre giorni le mie scarpe poi potrebbe giudicare.